Il problema dei profughi si porta dietro anche quello degli animali da compagnia perché ovviamente i profughi dall'Ucraina, lo abbiamo visto nelle tante foto e nei filmati drammatici che vediamo li vediamo sempre molto attaccati a cani e gatti e quando arriveranno qui, perché arriveranno, si porteranno dietro anche i loro animali un problema che è stato sollevato anche durante l'ultima riunione in prefettura che cosa può dire EMPA in merito? Il portarsi gli animali al seguito e non separare questi animali dalle persone, dai bambini e da queste donne è importantissimo, per cui va trovata assolutamente una soluzione per cui ci sia una visita sanitaria da parte della ASLE pubblica che appunto schedi questi cani, controlli, faccia una visita, verifichi le microcippature che voglio dire sono un problema superabilissimo perché basta insomma la microcippatura esiste quindi basta riconoscere la registrazione ma soprattutto direi nella parte sanitaria che sia fatta una visita onde evitare poi magari allarmismi o diffondersi di malattie che non ci saranno sicuramente che non ci saranno però è bene come si dice prevedere un'accoglienza anche per questi animali quindi io faccio appello al direttore generale dottor Durso che so essere sensibile anche alla tematica degli animali sottolineo anche, dottore organizziamo questo servizio affinché gli animali possano rimanere in compagnia dei loro amici umani e in salute senza dubbio